Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta pillola sull'indice di Milano in due minuti. Settimana abbastanza movimentata che poi però alla fine si è chiusa con un leggero guadagno. Settimana scorsa la chiusura era stata a 24,113 e questa settimana, pur essendo andati vicino ai 24,5, alla fine la chiusura di settimana è stata a 24,199 punti. Si era partiti bene lunedì, come vedete, con un leggerissimo gap di apertura, si è saliti, dopodiché sono cominciate a arrivare le notizie che prima la Germania e a ruota altri stati in Europa avevano sospeso il vaccino AstraZeneca per casi sospetti e di conseguenza la giornata positiva si è girata, andando a chiudere il gap, pur senza tuttavia andando a tostare i minimi dei 24 mila punti. Le sedute di martedì e di mercoledì sono state sedute di attesa, si ricorda che mercoledì c'erano i dati della Fed, Powell è stato molto dovish, ciò nonostante il mercato non ha apprezzato moltissimo le sue parole, in quanto ha sostanzialmente dribblato il discorso sul rendimento del Treasurer, ha parlato che saranno sostanzialmente disponibili a non rialzare i tassi fino al 2024, ma al mercato questa cosa non ci crede. Si era aperti comunque giovedì in gap up, in attesa tra parentesi della giornata di venerdì di scadenze tecniche, dove ad esempio il future di Milano sul prossimo future, quello di scadenza giugno, già incorpora i dividendi e pertanto quota oltre 200 punti in meno del future che era in scadenza. Questo si è visto benissimo in apertura con l'indice che ha aperto in netto gap down, l'importante però, e lo diciamo adesso, che ha tenuto i 24 mila punti e forse è stato un peccato che per pochi punti non si è andato a chiudere questo gap che è rimasto aperto, la chiusura del 10 marzo ha visto un massimo a 23,958 e il minimo di venerdì scorso è stato a 9,67, quindi è rimasti una decina di punti, questo gap aperto che dovrà a questo punto. Prima o poi essere chiuso, vedremo ora con il fatto che il vaccino di AstraZeneca è stato rimesso in uso e pertanto abbiamo già nuovi vaccinati con AstraZeneca e la volontà di riprendere le vaccinazioni e gli stati si sono detti tutti d'accordo nel accelerare le vaccinazioni, vedremo appunto, dicevamo, se questo basterà per proseguire al rialzo e ritornare al testo dei 24 mila e 500 punti o se servirà prima andare a chiudere questo gap. Non dimentichiamo in questa settimana che la Fed rispetto alla precedente amministrazione è stata più libera di dire ciò che si sentiva dire, ma altrettanto liberamente il Presidente americano si è sentito libero di definire il Presidente russo Putin un assassino e l'incontro USA-Cina che si è tenuto in Alaska è stata praticamente una sorta di rissa diplomatica in quanto le due parti praticamente non si sono accordati su nulla o quasi, pertanto anche questo andrà a creare ulteriori tensioni sui mercati. Dato di fatto c'è un gap aperto, i 24 mila hanno tenuto e vediamo settimana prossima come Milano proseguirà. Volevamo segnalarvi il nostro servizio Bond, ci stiamo focalizzando sul trading sui BTP, servizio abbastanza interessante, si basa su tre segnali, non ne sono previste chiusure in perdita e abbiamo un target di un 1% di guadagno lordo ovviamente nella somma delle tre operazioni. Naturalmente serve un capitale minimo di 50 mila Euro. Se sei interessato puoi chiederci qualsiasi informazione a info-mactrader.it. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona domenica.